Mr. Rosselli lo aveva detto alla vigilia, a Melfi non sarà una passeggiata. Così è stato per lui e del suo Cosenza. Intera Lucane Rosso-Blu rischiano un clamoroso capitombolo, evitato solo da un gol da Cineteca di Lamantia. Indicativa, la prima frazione, locali a tamburo battente su ogni pallone e Silani costrette ad inseguire. Una l'azione manovrata che porta il Cosenza alla conclusione, questa di Arrighini, controllata da Santurro. Il Melfi è pericoloso soprattutto quando è imposta sulle corsie laterali. Canotto e Longo sono delle spine nel fianco calabrese. Da loro parte l'azione che sul finire del primo tempo porta Lucane meritatamente in vantaggio. Longo serve in area Giron che beffa corsi e con un piatto di sinistro fa secco l'ex perinea. Nella ripresa Mr. Rosselli butta nella mischia Lamantia e Criaco e la manovra a Silana si fa più corposa. La mossa si rivela azzeccatissima al minuto 60 quando Arrighini ha parecchia per Lamantia e l'attaccante Cosentino supera Santurro con un colpo di tacco al volo che strappa applausi anche tra i tifosi locali. Sulle ali dell'entusiasmo il Cosenza va vicinissimo al controsorpasso. La palla buona ce l'ha a Caccetta ma Santurro si supera ed evita il patatrac. Il portiere di casa è decisivo anche su Vutovo all'ottantatresimo. Poco dopo però il Melfi a sfiorare il secondo gol con Masini. Perina si supera e salva il risultato. Finisce uno a uno. Un buon punto in tasca ad entrambe ma rispettivi obiettivi più lontani. Alessio Buompasso per la CNews24 Alessio Buompasso